Ed eccoci pronti per la minestra di scarola e fagioli. In diretta spegniamo perché è fatta e andiamo a metterla nel piatto. Che ve lo dico a pace, ci sono dei profumi pazzeschi. L'aglio non lo prendiamo. Vediamo l'aglio. Ed eccoci pronti per l'assaggio. Minestra di fagioli e scarole alla Napolitano. E che ve lo dico a pace.